A termesi dalle elezioni comunali, i quattro candidati a sindaco della città di Fano si confronteranno con la CNA sui temi dell'economia e della piccola impresa. Stasera, negli studi di FanoTV, andrà in onda il primo incontro dal titolo Un'impresa in comune, dove i candidati risponderanno alle domande dei rappresentanti dell'associazione, tra i quali il segretario provinciale della CNA, Moreno Bordoni, il presidente di Fano, Daniele Gaudenzi, il responsabile territoriale, Fausto Baldarelli e Davide Arrenzoni, vicepresidente del gruppo CRAI. Sì, un'iniziativa molto importante che la CNA ha messo in campo e in collaborazione con il CRAI, il gruppo Eurusole, per presentare ai candidati sindaci della città di Fano una piattaforma per noi fondamentale ed essenziale che riguarda il bene delle micro, piccole e medie imprese. Noi riteniamo che questo sia il tessuto economico fondamentale per il nostro territorio per la città di Fano ed era giusto confrontarsi sui temi delle imprese, cari alle imprese, non una lista della spesa lunga, ma 4-5 punti davvero fattibili, reali, prammatici che possono aiutare l'imprenditoria e tutto il territorio di Fano. Noi presenteremo questa piattaforma ai candidati e vedremo cosa avranno da dirci. Nei faccia a faccia di un'impresa in comune, realizzata attraverso un format ideato dall'ufficio stampa della CNA e dalla redazione di FanoTV, alle domande degli ospiti in studio si alterneranno contributi esterni con interviste ad artigiani e commercianti. Materiali e immateriali, problema sul centro storico, il commercio, rapporti con le altre amministrazioni comunali, tutta una serie di argomenti molto attuali e molto importanti per la vita economica della città di Fano. Questa sera, dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, trasmetteremo il primo approfondimento che vedrà protagonista Marta Ruggeri, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Giovedì 7 sarà la volta di luciatarsi alla guida della coalizione di centrodestra. Il 14 marzo è in programma il faccia a faccia con Teodosio Auspici della lista La Sinistra per Fano, mentre il 21 marzo toccherà al sindaco uscente di Fano, Massimo Seri. Siamo contenti perché possiamo davvero interfacciarsi in maniera pragmatica con i candidati sindaci e strappare a loro magari qualche promessa per la città di Fano del futuro.